Accetto volentieri l'invito di Cinema Italiano a raccontare, a provare a raccontare il giornalismo cinematografico ai tempi del coronavirus. Anche perché per chi è abituato a raccontare la cronaca cinematografica in giro per l'Italia e anche per il mondo, è davvero un po' difficile cercare di trovare spunti di racconto, ma uno mi è venuto dal mettere in ordine la mia videoteca personale e anche il mio archivio di intervista. Facendo un raffronto ho notato prima che buona parte della mia videoteca, una parte importante almeno, è coperta da film con Alberto Sordi, di Alberto Sordi in alcuni casi, perché Sordi come sappiamo è stato anche regista, quindi ho voluto tentare una chiave di lettura e di racconto di Alberto Sordi. Alberto Sordi è stato anche, secondo me, un uomo con la valigia. Ecco, il mondo di Alberto Sordi con la valigia è lo stimolo che mi ha permesso di cercare, di scovare tra le mie interviste, un'intervista di dieci anni fa al critico Enrico Magrelli, che ringrazio ancora per allora per quell'intervista in un mio documentario sull'immigrazione italiana vista dal cinema italiano, e anche oggi per poter raccontare il Sordi emigrante. Sordi emigrante che lascio a lui l'onore di presentarvi così. I flussi possono portare con loro dei problemi, il cinema a volte li racconta in chiave più seria, in chiave addirittura drammatica, i magliari o pane e cioccolata mi viene in mente. Ma tu dimmi se il paneterno non si diverte? Prima le fa nasce a Roma con quel bel sole, e poi per fatte campate sbatte qui in Dolce Land, capirai? C'è la calotta volare! Le culture tendono sempre a dimenticare quello che erano fino a dieci, venti, trenta, quarant'anni fa. Certe esperienze dolorose, la cultura, la società italiana le ha vissute, quindi non dimentichiamcelo mai. Probabilmente i suoi film sono anche il contrapunto, sono i capitoli di una società che cambiava. È un attore, personaggio che molto spesso ha preso la valigia e ha provato a muoversi, con l'aereo, col treno, nascosto, come capita, non è mafioso, no? Sando Rosalia Benedetta, ma dove mi botteranno? Spesso queste migrazioni sono delle migrazioni obbligate, spesso sono delle migrazioni criminose, qualche volta sono delle migrazioni alla scoperta di mondi diversi, di donne diverse, alla ricerca di un papà. Giuseppe! Ma è il sogno, papà! Giuseppe! Oddio, tu hai io? Giuseppe! Ogni volta che Alberto Sordi va in Australia o va nei paesi scandinavi, porta con sé tutte le caratteristiche del nostro paese, della nostra cultura. Però nello stesso tempo ci aiuta a capire di come profondamente siamo, per fortuna, un popolo con la valigia. E grazie Enrico, grazie di averci raccontato così in maniera brillante il Sordi con la valigia, il Sordi che emigra, che gira, che viaggia. Secondo me è un modo particolare, non so se molti ci avevano pensato, a un Sordi così è un mio piccolo, umile suggerimento che in qualche modo permette seconde o terze visioni in questi giorni in cui si resta a casa, mi raccomando, restiamo tutti quanti a casa in attesa che tutto questo sia un ricordo lontano, ci siano film addirittura su questa vicenda triste e dolorosa che sicuramente però ci lasceremo alle spalle.